Poco più di un anno fa uscivo ufficialmente 128 Academy, la mia scuola online per imparare a mixare con il corso DNA DJ che ti insegnava dalle basi fino a un livello intermedio tutte quante le tecniche di mixaggio. La scuola e il corso in particolare hanno riscosso molto successo sopra le mie aspettative in termini di iscrizione visto che abbiamo avuto quasi 250 studenti che in un anno sono veramente molti e anche in termini poi di feedback visto che praticamente tutti gli studenti sono rimasti molto contenti appunto di DNA DJ. Motivo per la quale oggi vi annuncio ufficialmente l'uscita di 100% Recordbox. 100% Recordbox è il nuovo corso di 128 Academy che ti insegnerà tutto quello che c'è da sapere su Recordbox, il programma più completo per DJ ad oggi. Andremo a vedere cose come la Lightning Mode, il Cloud Library Sync, l'utilizzo delle app mobile, come mixare video, testi, mappare dispositivi MIDI, fare il backup della libreria e moltissime cose ancora che ci permetteranno di conoscere al 100% come dice il nome del corso appunto Recordbox. Quindi questo nuovo corso non andrà assolutamente a sostituire DNA DJ, andrà ad affiancarsi a DNA DJ, sarà acquistabile dal sito anche in versione bundle DNA DJ con 100% Recordbox a un prezzo scontato. 100% Recordbox quindi è un corso tecnico sul programma, non sulle teorie di mixaggio con Recordbox, per quello appunto si studierà da DNA DJ e verrà affiancato lo studio con 100% Recordbox invece per imparare effettivamente la tecnologia che offre questo ecosistema. Qui sotto in descrizione vi lascio il link alla pagina del corso dove potete andare a vedere come sempre la lezione 0 gratuitamente, dove vi spiego là nel dettaglio qual è la struttura del corso, a chi lo consiglio e tutte queste informazioni qua più tecniche. Per altri dubbi potete scriverci a info-120academy.com, lasciare un commento qui sotto. E per concludere, come dissi con DNA DJ, questo è soltanto l'inizio di 120 Academy.